Come nostra abitudine c'è ancora tempo per una scarica di adrenalina, l'adrenalina dell'inferno snow. Ancora immagini spettacolari, i migliori atleti internazionali, le nevi italiane, corsa, prove di abilità. Quindi riflettori puntati sull'Alpe Cimbra, mentre l'altra ADS domenica prossima si ferma perché c'è la pausa per la nazionale di calcio. Torniamo domenica 3 aprile. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buonanotte. Ciao! 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 Ciao!